Quanta strada abbiamo fatto insieme noi e gli italiani? Da sempre abbiamo viaggiato al vostro fianco e continueremo a farlo perché l'Italia è la nostra storia, il nostro passato, il nostro futuro e anche il nostro presente A febbraio gli incentivi Fiat continuano grazie al bonus tricolore Fiat hai fino a 7.000 euro sulla gamma Hybrid ti aspettiamo anche sabato e domenica